rischia di sprofondare a inizio ripresa ma poi riemerge cavalca l'onda blu celeste il gs trissino dell'oca e pista capace di restituire la sberla di gara a1 al forte dei marmi eppure in rimonta dopo il gol del 4 a 2 siglato dai toscani al nono minuto per fortuna dei vicentini con contro replica immediata sulla scia dell'entusiasmo i campioni d'italia in carica prima pareggiano e poi passano in vantaggio per fissare il punteggio finale sul 6 4 in formato ribaltone sfruttando la vena prolifica dell'azzurro cocco dilagante sotto la rettina nel finale e colpendo duro nei secondi conclusivi il quintetto di rollers riscatta lo scivolone di gara a1 quel risicato 5 4 di sabato sera a favore del forte su pista amica che ha determinato la partenza ad handicap per i paladini del paladante di trissino anche ieri presentissimi a spingere verso il tricolore la banda di ale bertolucci grazie a tutti grazie a tutti